Un po' io, era stata convocata la dottoressa Gambarini perché ovviamente lei si occupa proprio di questo, è la responsabile della politica provinciale, quindi aveva anche magari una serie di dati che poteva fornire, magari più dettagliati rispetto a quelli indicati in convenzione. Comunque, la sintesi è che moltissimi comuni della provincia hanno ormai sottoscritto questo tipo di convenzioni che appunto coinvolge sia i comuni, sia l'ATC, insomma l'associazione che raccoglie tutti i cacciatori, sia ERA come gestore delle reti e insomma un po' tutti gli enti che sono, adesso magari carico anche la bozza di delibera che ho inviato. Aspetta Elisa che forse è arrivata la dottoressa, non la sentiamo però, è sotto un altro nome, probabilmente con un altro account. Ha un microfono scollegato. Buonasera, mi sentite adesso? Sì. Buonasera. Scusate, il ritardo per fortuna mi hanno rimandato il link, comunque del ritardo scusatemi, è stata un'efficienza mia perché da casa i potenti mezzi sono un po' limitati. Bene, quindi sono a vostra disposizione. Sì, allora stavo illustrando io, dottoressa Gammarini, un po' la convenzione in generale che riguarda diversi enti, il consorzio oltre che comuni, il consorzio della bonifica, l'ATC Modena, l'Agenzia Interregionale del Fiume Po, le organizzazioni professionali agricole, cioè tutti coloro che possono essere coinvolte dal problema delle nutrie che ormai sono degli animali che possono essere considerati infestanti e che creano purtroppo tantissimi problemi, soprattutto in particolare sugli argini fluviali o comunque dei torrenti perché scavano queste tane molto profonde che indeboliscono gli stessi argini. Sono animali che vanno contenuti, quindi la convenzione è una convenzione standard, ecco che è stata sottoposta a diversi altri enti, adesso la scorro velocemente, l'ho già inviata ai consiglieri, e l'oggetto della convenzione è appunto la collaborazione tra tutti questi enti, dove ognuno mette il proprio contributo, i comuni sono tenuti a gestire le segnalazioni e a inviarle alla politica provinciale. Poi, diciamo, quindi svolgono un ruolo da sostanzialmente intermediari, ecco così, mentre invece sono i referenti dell'ATC territoriale competente che poi hanno proprio il ruolo di catturare questi animali, fornire le gabbie e poi nei casi estremi poi anche procedere all'abbattimento di alcuni capi, io però in questo senso non riesco a fornire ulteriori indicazioni, magari se la dottoressa poi Gammarini vuole intervenire. E ovviamente, diciamo, c'è un costo minimo che viene imputato a tutti gli enti per contribuire a portare avanti appunto tutte queste attività di controllo, di monitoraggio, di controllo e monitoraggio, acquisto delle gabbie e così via, che è ripartito in base alla popolazione e ad altri fattori che sono indicati nell'ultima pagina della tabella, al numero di nutri mediamente, diciamo, che vengono messi in gabbia e così via. E per il comune di Maranello è di 1950 euro per una convenzione che dura dal 2021 al 2023. Solitamente, diciamo così, sono abituati in verità di segnalazioni, lo dico perché ce ne siamo resi conto proprio alla luce di questa convenzione, come comune di Maranello ne riceviamo pochissime per non dire niente, perché ormai, diciamo, i cittadini sono abituati e segnalano direttamente o alla provincia oppure addirittura all'ATC. Quindi noi materialmente riceviamo veramente pochissime segnalazioni, ma comunque è un'attività di controllo, di monitoraggio che viene fatta dall'ATC, dalla provincia, da tutti questi enti, e quindi anche sul nostro territorio, perché comunque questo problema è presente anche sul nostro territorio e quindi l'amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione di questa convenzione perché le attività già si svolgono e si sono svolte, immagino, anche in passato. Poi se la dottoressa vuole aggiungere qualche elemento in più, ecco, volentieri. Grazie, grazie. Mi dà l'occasione per chiarire. Sul territorio del comune di Maranello l'ATC è sempre intervenuto a fronte delle segnalazioni, per questo prima dicevo, quelle rendicontate sono sicuramente inferiori a quelle gestite, perché molto spesso i cittadini fanno riferimento all'ATC che se anche il comune non è in convenzione in modo stretto comunque cerca di dare il supporto necessario. È chiaro che la partecipazione a questa convenzione permette al comune di essere esonerato da questa attività che come voi sapete in modo specifico è oggi attribuita ai comuni, perché ovviamente come dicevate prima la nutria è non più un animale sottoposto diciamo alla legge 157 del 92, ma è al pari dei topi, tanto per intendersi quindi è una specie da eradicare. Non è previsto il limite all'abbattimento, non è previsto il limite al trappolaggio, perché è un animale infestante, viene definito in questo modo e i problemi che può causare sono ingenti, ma non solo per se stessa, perché la nutria scava delle tane che non sono molto profonde. Il problema è che vengono spesso condivisi da altri animali fossori che invece hanno delle capacità di penetrazione negli argini, soprattutto fluviali, molto più intense, come può essere la folpe, il tassio estrice, anche se sul vostro territorio tassi estrici non ne ho sentiti, delle volpi invece ne ho sentite. In questa convenzione sostanzialmente la provincia è vero e capofile, ma di fondo crea un bacino di raccordo con tutti i comuni e con naturalmente gli ATC di competenza e i consorzi, che sono coloro i quali fanno il monitoraggio sugli argini e contribuiscono e sovvenzionano direttamente la convenzione. In questo modo, partecipando a questa nostra convenzione, il comune viene praticamente esonerato dalla gestione diretta di questa attività perché passa tutto in coordinamento alla Polizia Provinciale, ma soprattutto in esecuzione agli ATC che hanno già non solo l'estrumentazione, come evidenziava prima l'architetto, ma anche i coadiuttori che sono gli unici abilitati insieme alla Polizia Provinciale all'abbattimento degli animali. perché il comune, se anche lo assorbe in propria questa attività, deve appoggiarsi ai coadiuttori per l'abbattimento. Non è possibile effettuarlo in proprio, bisogna essere nell'albo provinciale e bisogna essere sotto il coordinamento della Polizia Provinciale. Per quanto riguarda la Polizia Provinciale è chiaro che anche noi degli interventi ne facciamo, ma veramente solo su situazioni particolari perché ovviamente cerchiamo di dare un servizio analogo a tutto il territorio provinciale. Quindi, in questo modo, il comune sostanzialmente trasferisce questa competenza in toto ad altri soggetti che la gestiscono direttamente. Il pagamento viene fatto in novembre e questo perché la provincia poi distribuisce queste somme ai due ATC che sono con noi convenzonati, che sono quelli che raggruppa anche il comune di Maranello che è l'ambito territoriale di caccia Modena 2 e l'ambito territoriale di caccia Modena 1, perché per esempio sui montagna il problema non esiste e quindi per loro non esiste neppure la convenzione, l'estendimento della convenzione. In questo modo ci sarà un riparto delle somme perché sempre in modo trasparente, per esempio con questa nuova convenzione abbiamo avuto delle enti che si sono aggiunti e quindi faremo poi un nuovo riparto delle somme sempre a vantaggio degli ambiti territoriali di caccia, non a vantaggio della provincia, questo no, assolutamente, a vantaggio degli ambiti che sono coloro i quali agiscono sul territorio. I numeri sono interessanti perché adesso il comune di Maranello, in modo più circoscritto, ma a livello di provincia parliamo di abbattimenti di nutri e che si aggirano annualmente dagli 11.000 ai 14.000 soggetti, quindi sono interventi piuttosto pesanti. Poi se avete qualche interesse, qualche cosa che vi posso spiegare in più, non so, il sistema del trappolaggio che implica per esempio il controllo giornaliero perché l'abbattimento dell'animale deve avvenire senza procurare inutili sofferenze e quindi in un tempo molto modesto e se ci sono per esempio delle catture di specie non target vengono liberate immediatamente sul territorio proprio per evitare ogni sofferenza all'animale. Quindi c'è un controllo puntuale, voglio dire, dove si attiva questo sistema il controllo è giornaliero, è puntuale. Grazie dottoressa Gambarini, se c'è qualche consigliera che ha delle curiosità, vuole? Volevo, posso intervenire? Volevo chiedere una cosa alla dottoressa, solo così per curiosità, visto che secondo me l'animale più pericoloso negli ostri e argini è un altro, vabbè, è quello lì, lo può capire anche lei. Il monitoraggio di queste zone viene fatto esclusivamente per questi animali oppure il monitoraggio generale degli argini? Cioè nel senso che una volta che chi ha queste competenze, esegue questi monitoraggi, può valutare anche se ci sono delle altre problematiche che non derivano dalle nutrie o stiamo parlando solo per quello che riguarda la convenzione, una cosa che riguarda esclusivamente per le problematiche che può dare la nutrie, ecco, in questo caso. Noi abbiamo attiva una seconda convenzione, che è la convenzione per gli animali fossori, che sono in specifico tasso, istrice e la volpe, perché la nutria viene anch'essa considerata animale a vocazione fossore, ma molto più labile perché adesso è stata dequalificata. Quindi noi abbiamo anche questa convenzione con cui monitoriamo gli argini, sempre gli argini pensili, per vedere se ci sono cani di questi animali che talvolta, ripeto, purtroppo lo condividono anche con la nutria. E il monitoraggio che si effettua per la nutria naturalmente viene, se si trovano le tracce, viene anche segnalato ad altre finalità, ma i due monitoraggi si eseguono separatamente, solitamente. Cioè noi abbiamo i coerciutori che escono per gli animali fossori, perché lo fanno insieme ai consorzi di bonifica e all'Aipo, mentre per la nutria noi lavoriamo congiuntamente ai consorzi di bonifica. Per esempio nell'Alpa, in convenzione, c'è anche la protezione civile che qui lei non la trova, ad esempio, perché gli animali fossori sono nocivi e invasivi, ma con delle potenzialità di scavare gli argini molto più radicate rispetto alla nutria, che invece ha una maggiore estensione, anche se un territorio, mi permetta il termine, urbano, abbiamo delle segnalazioni di nutrie che si avvicinano alle abitazioni, soprattutto se queste sono sui corsi d'acqua o vicino ai laghi. Mentre gli animali fossori sono sostanzialmente sugli argini persidi o comunque molto vicini a questi argini. Infatti il nuovo piano di controllo degli animali fossori Tassia e Istrice, che è solo per la provincia di Modena, prevede un'estensione dall'argine persidi di 500 metri, proprio perché solitamente questi animali non si allargono oltre. Poi per esempio, a dirle la verità, una nota di colore, per esempio, io ne parlo in questi termini, ma proprio due mesi fa abbiamo trattato una questione di una familiola di Tassi che si è insediata in una casa disabitata in un comune di Savignano, però abbiamo dovuto affrontare anche questa problematica che si erano allontanati parecchio dagli argini. Non so se può essere già... Grazie, sì, sì, no, no, ho capito, ho capito benissimo. Grazie. Ci sono altre domande, richieste per il punto? Non sembra, quindi se possiamo passare al secondo punto, all'ordine del giorno. Ringraziamo la dottoressa Gambarini, la lasciamo andare magari, visto che è stata così gentile a prestarsi. Grazie, dottoressa Gambarini. Scusatemi del ritardo, scusatemi tanto. Assessora, buona serata, buona serata. Arrivederci. Grazie, grazie mille. Quindi passiamo al secondo punto, all'ordine del giorno. Adozione e variante al piano operativo comunale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 e successive modificazioni e integrazioni. Prego. Allora, dovrei presentarla al collega Mirko che ha preparato i documenti. Mirko, ci senti? Forse no. Ecco, ok, adesso sì. Solito mio problema. Allora, sì, questa variante di POC riguarda due ambiti per i quali è pervenuta da parte dei privati la proposta di attuazione. Sono due ambiti che ovviamente precedentemente non erano inseriti nel POC e il percorso che parte oggi con l'adozione diciamo è l'elemento che farà poi dopo avviare il deposito formale della proposta di piano attuativo perché qui abbiamo i privati che hanno già definito anche una proposta di piano attuativo che verrà poi approvata contestualmente all'approvazione della variante di POC e quindi il POC assumerà anche la variante assumerà anche il valore di piano urbanesico attuativo e quindi diciamo questa sera l'adozione della variante insomma consente di far partire questo procedimento quindi dopo successivamente verrà poi valutato nel merito anche da parte degli enti preposti oltre che dal comune la proposta di piano attuativo e per quanto riguarda questi due ambiti sono due ambiti appunto che previsti ovviamente dal PSC la proposta formulata deve essere coerente con il PSC stesso ma soprattutto anche coerente con i criteri che si diede il POC quando venne approvato nel 2016 questo ovviamente è fondamentale perché appunto ci troviamo in una condizione di variante del piano operativo comunale quindi ovviamente i criteri i principi generali del piano non possono essere disattesi i due ambiti adesso eventualmente condivido lo schermo così vi faccio vedere dove sono localizzati usate perché è cambiata la ecco qua presenta ok sono due ambiti come dicevo il primo è l'ambito AN2A crociale via fonda che è la scheda 49 che verrà inserita riguarda l'ambito diciamo che residenziale che è intorno al centro giovani già oggetto di un piano particolareggiato abbastanza vecchio del 2003 infatti insomma è per buona parte già anche urbanizzato con la variante al PSC del 2013 è stato previsto la possibilità di è stato previsto questo stralcio che vedete indicato con la lettera B che è la parte del vecchio piano particolareggiato perché il piano particolareggiato di fatto non ha modificato il suo perimetro ma è la parte di piano che non aveva trovato attuazione che non era ancora stato sviluppato quindi diciamo con la variante del 2013 in seguito a un accordo all'articolo 18 fatto con la proprietà si erano definiti i termini e le modalità per poter ripianificare e quindi portare alla conclusione questo stralcio attuativo e di fatto oggi quindi con l'inserimento nel POC si va a procedere all'inserimento e quindi all'attuazione di questo ambito vengono riconosciuti diritti edificatori preesistenti quindi quelli assegnati dal vecchio piano e non utilizzati che sono 2207 metri quadrati a cui si aggiungono un riconoscimento che deriva appunto dalla variante al PSC del 2013 di ulteriore 296 metri quadrati per funzioni terziarie o commerciali in virtù del fatto che diciamo l'accordo stipulato nel 2013 prevedeva l'impegno da parte della proprietà per l'attuazione di questo ambito alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione in particolar modo la realizzazione di un parcheggio in questa porzione più a est del comparto a servizio poi diciamo futuro del centro giovani e anche la revisione del percorso della pista ciclabile attualmente posta a margine proprio del confine del centro giovani proprio per cercare di ampliare anche gli spazi necessari e fruibili da parte del centro giovani i 2207 metri quadrati invece sono per funzioni residenziali come già previsto dal vecchio piano quindi di fatto con questo ambito che si trova già all'interno del territorio urbano comunque insomma non viene ampliata la capacità insediativa del POC ma solamente una piccola parte di 296 metri quadrati di funzioni terziario commerciale ovviamente previste comunque e già contabilizzate dal punto di vista di carico urbanistico dal PSC del piano strutturale comunale che li ha messi in gioco con la variante del 2013 l'altro ambito invece riguarda un ambito di nuovo insediamento a San Venanzio riguarda dell'ambito AN1L che è un ambito proprio posto a margine dell'abitato di San Venanzio a margine della strada provinciale della Giardini questo è un ambito di nuovo insediamento è stato inserito nel contestualmente all'approvazione del PSC quindi nel 2008 e ha una edificabilità molto molto contenuta perché a fronte di una superficie territoriale di oltre 21.000 metri quadri vengono assegnati 1.351 metri quadrati per funzioni residenziali e quindi insomma parliamo di un insediamento che genera circa 16 alloggi quindi insomma ovviamente è un'edificazione molto contenuta molto insomma di di poco impatto sostanzialmente l'obiettivo principale di questo ambito è quello di creare i presupposti per poter riqualificare l'asse di collegamento ovviamente in questo caso nel tratto finale l'asse di collegamento tra la strada Giardini e la Fondovalle quindi è il punto di Fondovalle quindi sostanzialmente le estense che oggi diciamo esce in via della posta qui proprio nel centro chiamiamolo così di San Venanza quindi questo è l'obiettivo principale di questo ambito oltre che appunto ovviamente in questo ambito importante è una prescrizione anche del PSC un'attenta progettazione dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e di sicurezza per quanto riguarda l'accesso sulla strada provinciale anche in questo caso come per l'ambito N2A come dicevo prima l'attuazione poi dovrà avvenire con il PUA che verrà depositato in seguito che sarà depositato formalmente in seguito all'adozione della variante di POC e insieme al POC dovrà essere approvato in quanto il POC acquisirà il valore di piano urbanistico attuativo in questo caso a differenza dell'ambito di crociale che è un completamento diciamo di una vecchia previsione il 30% delle superfici assegnate dovranno essere restituite in termini di edilizia residenziale convenzionata con le varie modalità che il POC precisa e che poi il PUA andrà a definire nel merito le modalità che il privato vorrà scegliere per assolvere questo impegno oltre a una alle valorizzazioni sempre parametrate sulla base della superficie complessiva assegnata e per le per le quote previste appunto dal POC in questo caso il 30% secondo i valori previsti dal POC stesso che trovate in calcia la scheda che era legata tra la documentazione che vi è stata consegnata ecco ovviamente come dicevo all'inizio siamo comunque in entrambi gli ambiti in conformità in attuazione di quanto previsto dal piano strutturale generale strutturale comunale nella prima parte del fascicolo di schede che vi è stato trasmesso ho trovato un po' diciamo un resoconto su quello che sono le capacità edificatorie e le modifiche che ne derivano con l'inserimento di questo ambito che comunque come dice questi due ambiti insomma diciamo che aumentano di circa 40 40 il numero delle unità immobiliari insediabili dal POC Mirko magari carichi quelle due schede lì solo così le rivediamo insieme se non ti dispiace grazie assolutamente allora adesso volevo partire da quella cartografica adesso ovviamente le schede di POC non sono molto significative in termini cartografiche perché si limitano a identificare su una base catastale un perimetro comunque questo è l'ambito la scheda dell'ambito R2A di via crociale dove appunto abbiamo queste due porzioni che come dicevo fanno parte questo qua questo è il centro giovani e quindi fanno parte del vecchio piano particolareggiato poi invece questo è l'ambito di San Venanzio che viene inserito l'ambito N1I che poi quello che corrisponde ovviamente a questa porzione per la scheda normativa come dicevo appunto abbiamo la parte di sintesi dove di fatto qui viene rappresentato le superfici complessive che vengono inserite nel POC ovviamente sempre previste contabilizzate precedentemente dal PSC che sono i 1.351 per l'ambito di San Venanzi 2.207 per via fonda per quanto riguarda la parte residenziale oltre a 296 di terziario che poi si si sommano a tutti gli altri interventi già insediati già previsti chiedo scusa dal POC e in parte anche già attuati con le quantità quindi di residenza che rispetto alle previsioni del PSC 2008 sono state portate in attuazione dal POC che rappresentano circa l'80% per quanto riguarda la residenza il 38-40% per il terziario e quasi completamente siamo oltre l'80% per quanto riguarda la parte produttiva anche se poi diciamo la parte produttiva non è oggetto di questa variante da qui poi derivano le due schede che nel solito diciamo schema del piano operativo riportano un po' quelli che sono nella prima parte le previsioni del piano generale quindi del PSC quindi quelli che sono gli obiettivi le funzioni i carichi e le condizioni e poi dopo vanno nella parte nella seconda e nella terza parte individuare puntualmente appunto con i mappali catastali quindi si va a fare una perimetrazione molto puntuale e precisa delle aree e a declinare le caratteristiche dell'intervento le prescrizioni che ovviamente come dicevo devono essere coerenti con quanto previsto dal PSC e rappresentano insomma quello che vi ho raccontato prima in termini di diritti edificatori prescrizioni e modalità di attuazione questo sia per quanto riguarda l'ambito di Crociale che per quanto riguarda l'ambito di San Venanzio nell'ambito di San Venanzio poi in fondo come dicevo c'è anche la parte di valorizzazione che trattandosi in ambito di nuovo insediamento di nuova previsione del vecchio del PSC quindi non è come l'ambito AN2A che derivava già da un vecchio piano particolareggiato deve anche contabilizzarsi la parte di valorizzazione che poi dovrà essere tradotta in interventi che dovranno saranno fatti all'interno dell'ambito da restituire diciamo così alla collettività se avete qualche domanda sono a disposizione Mirko io non ho capito non ho capito la storia del Crociale allora ti faccio le domande così se no è un disastro allora dietro al centro giovani c'era sta cosa che non era ancora finita dico bene? esatto adesso lo vuol finire? adesso la completano sì ok c'è un vecchio piano particolareggiato che è scaduto nel frattempo già da qualche anno perché poi in realtà è scaduto nel 2015 ma già nella variante al PSC del 2013 visto che comunque si era prossimi alla scadenza di questo piano la proprietà ha manifestato la volontà di ridiscutere insieme all'amministrazione come completare questo intervento e venne definito con un accordo articolo 18 recepito all'interno della variante al PSC al piano strutturale comunale che venne fatta appunto nel 2013 le modalità che poi sono quelle che trovate nella scheda cioè completare con la capacità edificatoria già preassegnata dopodiché visto che è stato trovato l'accordo per realizzare qualche opera in più gli era stata riconosciuta sulla base di un ambito di questo ambito eco che era stato diciamo leggermente riconosciuto una piccola quantità di edificabilità a fronte dell'intervento di riqualificazione della pista ciclabile e quant'altro per la realizzazione di funzioni commerciali che sono i famosi 296 metri quadrati e l'altra cosa di fianco al centro giovani verso Maranello dove c'è quello lì e lì cosa ci fa? lì ci sarà un qua potrà essere interessato con un lotto di edificabilità dove immagino io ci troverà poi collocazione la parte commerciale e soprattutto deve realizzare un parcheggio dopo di che poi col PUA dovremmo andare a definire ovviamente valutare la proposta del privato e definire nel dettaglio un parcheggio di 800 metri quadrati con almeno 32 posti questo era quello che prevedeva l'accordo del 2013 ok quindi del terreno intorno al centro giovani ce ne viene? no se ho capito bene sì dopo poi adesso questo sarà nel PUA dovremmo andare a definire le cessioni perché comunque ci sono delle cessioni aggiuntive rispetto alle urbanizzazioni che già sono state realizzate che sono già visibili sul posto e l'obiettivo proprio del PSC è proprio quello cercare di dare un pochino più di respiro intorno al centro giovani in particolar modo per quest'area verde qua quella dove c'è il B verde esatto questa era la previsione del PSC che lui va a confine con quella cosa era Pezzuoli Poggioli come si chiama? Pezzuoli Olivieri ok Odas è chiaro grazie prego se non ci sono altre domande richieste di chiarimenti possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno quindi vari ed eventuali se ce ne sono se non ci sono richiesti in tal senso direi che la commissione sia conclusa quindi buona serata a tutti buonasera 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 a tutti buonasera